Io non so se siete pronti a quello che sta per accadere in questo mercato, non so se ne rendete conto di quello che sta per succedere, io non so neanche se avete la minima cognizione di quello che sta accadendo nel mercato delle crypto, nel mercato di Bitcoin e di come Bitcoin sta entrando ad una velocità che tu neanche ti renderai conto ma ti ritroverai travolto da questo tsunami. Tra poco ti farò vedere alcuni news, alcuni dati ma saranno solamente la punta dell'iceberg di tutto quello che sta accadendo in questo mercato, in questi mesi, in questi anni in cui abbiamo sofferto un bear market nel 2022, adesso quest'anno a fatica si sta risalendo ma comunque c'è disinteresse totale, sei completamente disinteressato a quello che sta accadendo in questo mercato, a Bitcoin. Non stai per sfruttare la più grande opportunità della tua vita, a me questa roba mi fa incazzare perché io non mi capacito di come sia possibile che il 99% delle persone in questo momento siano fuori da questo mercato e non stanno sfruttando quello che sta per arrivare e quando arriverà poi dopo come pecoroni tutti quanti verrete a chiederci, ma è troppo tardi per comprare adesso? Dove sei stato in questi due anni? Adesso vedrai, vedrai dei dati perché non voglio parlare io, anzi guardiamolo subito, guardiamo questo articolo che ci fa capire ragazzi. Crypto e Bitcoin, indagine di Coalition Green Twitch che ci fa vedere come il 50% dei gestori finanziari americani, tra i più grandi al mondo, ok, detengono un portafoglio di investimento in cripto per i loro clienti. Ragazzi, il 50% dei gestori finanziari delle più grosse aziende al mondo detengono Bitcoin e cripto, comunque portafogli cripto per i loro clienti. BlackRock ragazzi si è affacciato insieme ad altre decine di aziende fondi che gestiscono trilioni di dollari perché vogliono arrivare ad aprire un ETF spot su Bitcoin per dare la possibilità ad altri istituzionali di investire in questo mercato. E tu stai a guardare, tu mi stai a guardare quando sta succedendo l'impossibile, no ma io sono capace di farlo da solo, no ma le cripto non so, adesso vedo, magari più avanti. Ragazzi ma vi rendete conto dei fondamentali, di quello che sta accadendo, adesso vedremo altri dati, andremo a vedere dati non c'è, ma ragazzi intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale, prima cosa. Seconda cosa, in Academy stiamo facendo dei portafogli proprio per quello che sta accadendo, quello che sta per accadere, quello che succederà nel 2024, magari nel 2024, nel 2024, nel 2025 sarà epocale. Perché l'asset più scarso al mondo nel 2024, Bitcoin sarà l'asset più scarso al mondo, più scarso dell'oro e qua ci sono i gestori finanziari, il 50% sono interessati e stanno già aprendo dei portafogli cripto per i loro clienti. Secondo te perché lo sta facendo? Perché lo stanno facendo? Perché BlackRock, la più grande società finanziaria al mondo, è interessata ad aprire un ETF spot su Bitcoin? Perché secondo te? Perché questo è un mercato che sta andando a sparire, perché Bitcoin è la moneta degli hacker, Bitcoin è la... ma non so, non mi sono mai fidato di Bitcoin è qualcosa di volatile, qualcosa di... Io mi fido solo di quello che posso toccare, il denaro contante, sento ancora questi discorsi in Italia, ragazzi, state messi male, ok? Ve lo posso dire, state messi male, a me dispiace, ma voi state veramente messi male, ok? Questo è un numero importante che racconta di un mercato cripto che nonostante un 2022 da dimenticare è in realtà molto più resiliente di quello che vi raccontano. Uno su due, ragazzi, un fondo su due, quasi la metà, ok? Di chi ha risposta all'indagine del lato buy, hanno asset digitali in gestione. Ovviamente, ragazzi, non è un dato definitivo, perché? Perché stanno aspettando l'ETF! Tutti gli altri stanno aspettando l'ETF, chi ancora non è? Stanno aspettando l'ETF e quando arriverà questo benedetto ETF, ragazzi? E voi dove sarete? Cosa avete fatto in questi mesi? Dove siete stati? Noi abbiamo un'academy che aiutiamo le persone che vogliono investire in questo mercato a farlo in modo consapevole, senza andare a perdere soldi, facendo formazione, cercando di aiutarvi a prepararvi a quello che arriverà, perché non sarà facile, ragazzi, sarà un periodo molto complesso, molto divertente, faremo in montagne di profit, ma sarà molto difficile da gestire. Quindi, andiamo a vedere altri dati, perché non è finito. Eccolo qua, allora, Bitcoin, number of address with not zero balance. Questo è il numero degli address di Bitcoin nel corso del tempo. E come vedete, bear market permettendo, quindi abbiamo dei picchi durante, ovviamente, i bull market e dei ribassi durante bear market. Guardate un po', qui si potrebbe disegnare, ok, una trend line a salire. E guardate qua sotto, guardate questo dato qui. Ok, ragazzi, 48.5 milioni di odler in questo momento che superano la popolazione spagnola. Cioè, più di tutta la Spagna in questo momento sta voltando Bitcoin, se dovessimo fare una proporzione a livello mondiale. Ragazzi, abbiamo Ted Cruz, il senatore del Texas, dove stanno, tra l'altro, producendo e investendo tantissimo per quanto riguarda il mining, che dice sono bullish on Bitcoin. Un senatore, il senatore del Texas, uno degli stati degli USA, ragazzi. Cioè, che dice sono bullish on Bitcoin, ok? Ok, qua, guardate il numero, ogni mese, ogni mese, ragazzi, anche ad agosto 2022 abbiamo avuto 4.000 nuovi indirizzi Bitcoin creati. Guardate qua il numero, ovviamente, poi dipende dal mese più bullish rispetto al mese più bearish, ma ogni mese siamo in positivo, ragazzi. Continuano a crearsi nuovi migliaia di wallet all'interno di questo mercato. Continuano a crearsi nuovi wallet, continua, nonostante la lateralità del prezzo, nonostante la noia, nonostante i volumi sono al minimo, continuano a crearsi migliaia di wallet ogni mese, decine di migliaia di wallet ogni mese. Ragazzi, voi dove state in questo momento? Dove state quando praticamente il 50% dei fondi finanziari sono interessati a investire in crypto? Sta arrivando un ETF spot, BlackRock, la più grande società finanziaria del mondo, si sta interessando a Bitcoin, abbiamo veramente il mondo, ragazzi, il mondo che si sta affacciando a questo mercato e voi non ci siete, voi state aspettando non so che cosa, entrerete tutti quanti come pecore nel greggio una dopo l'altra. Cioè, io, ragazzi, non riesco, vi giuro, a capire perché, perché, perché sono anni che ne parlo e faccio 500 views a video? Ragazzi, io dovrei essere in prima pagina, praticamente, a cercare di fare divulgazione, a cercare di raccontare quello che non vi raccontano i giornali mainstream, quello che non vi racconta la televisione, quello che non vi raccontano neanche i grandi economisti, quelli che ancora sono lì a dire, però, non so, ma cosa serve Bitcoin? Bitcoin è inutile, non serve a niente. Non serve a niente, l'asset più scarso è il libero del mondo. Non serve a niente. Non serve a niente Bitcoin. e quando una persona dice così è evidente che non sa neanche di cosa sta parlando. Stiamo parlando dell'asset più libero e scarso del mondo e tu mi vieni a dire che non serve a niente. Non serve a niente quello che stanno sviluppando su Bitcoin, le tecnologie che stanno tirando fuori grazie alle cripto, quello che si sta sviluppando sulla blockchain, tutto quello che ne deriva, le 40.000 e oltre i progetti che ci sono, che nascono come funghi, tra l'altro in certe situazioni, aziende, multimiliardare che stanno sviluppando grazie a questa tecnologia, posti di lavoro, economia, finanza, tutto quello che viene mosso. Ragazzi, c'è un intero mondo dietro il semplice Bitcoin. Se vogliamo anche semplicemente andare a scavare nelle alcoine, tu sei fuori, sei fuori, stai rimanendo a guardare, mentre praticamente eserciti di miliardi, trilioni probabilmente entreranno in questo mercato e tu entrerai quando sarà troppo tardi, molto probabilmente. Noi in Academy stiamo lavorando per sfruttare questo momento. Ragazzi, una volta che sono entrati loro, una volta che sono entrati i grandi fondi, le grandi multinazionali, i veri miliardi, poi chi pensate che arriva dopo? Chi pensate che arriva a comprare dopo? A chi venderanno i loro profitti incredibili che hanno fatto grazie alla stupidità delle persone? Secondo voi? A chi tocca dopo? Quindi io dico, non sarà così per sempre. Non sarà per sempre la più grande opportunità della vostra vita. La più grande opportunità della vostra vita passa e poi corre, ok? Poi dopo non c'è più. Ragazzi, non sono consigli finanziari, ok? Potete sbagliarmi tranquillamente, ma io vi sto semplicemente riportando. Quello che mi sembra ovvio, perché basta informarsi, basta rimanere un attimino attaccati a questo mercato e a guardare quello che sta succedendo e a quello che veramente sta arrivando. È uno tsunami, è come se noi lo vedessimo laggiù all'orizzonte arrivare e noi siamo fermi a guardare. A guardare senza fare assolutamente nulla. Entra in Academy se vuoi essere seguito per questo tipo di discorso. Non farlo da solo, studia da solo. Ma, cioè, non... Ti prego, ti prego. Hai capito? Hai capito? C'è anche il mio canale Lex Finance gratuito, dove comunque seguiamo anche questo tipo di notizie, questo tipo di situazioni. Iscriviti anche al canale, mi raccomando. Io veramente spero di averti dato una svegliata, ok? Ciao a tutti.